Tempo di analisi e bilanci dopo gli esiti ai ballottaggi di Ortona e San Salvo. L'argomento è stato al centro di una follata conferenza stampa del Partito Democratico. Sentiamo il segretario regionale, Michele Fina, che ha parlato di ondata favorevole per il centro-sinistra. C'è stata sostanzialmente la conferma di tutti i sindaci o le compagini politiche uscenti, tutti e cinque comuni sopra 15 mila abitanti, ma il PD avanza, è primo partito, avanza in Italia. Oggi facciamo il bilancio anche degli ultimi tre anni, perché da questo si può vedere come c'è stato un avanzamento, sempre nel rispetto poi delle specificità locali. Nel corso dell'incontro è stata poi rimarcata la lezione dell'Aquila, mai più divisi, ha detto Fina. Rammarico per San Salvo, comune perso per una manciata di voti, ma sottolineatura per il successo del civismo ad Ortona, dove il PD, pur non presente, ha sempre avuto un dialogo aperto con il confermato Castiglione. Il sindaco che è stato confermato con noi ha condiviso la battaglia per le elezioni provinciali e le elezioni di Francesco Menna, quindi il partito locale ha deciso di sostenerlo senza simbolo, un po' come a Martinsicuro il centro-destra non ha presentato i simboli, perché appunto il tratto di civismo ha prevalso rispetto alla presenza dei simboli. Quindi leggiamo questa come una conferma dell'amministrazione uscente, una sconfitta del centro-destra, un dialogo con un'amministrazione che noi riteniamo un'interlocutrice importante. Guardando al futuro, infine, il segretario ha indicato le priorità su cui lavorare. Noi oggi diremo come vogliamo lavorare per costruire l'alternativa al presidente Marsilio, perché c'è bisogno di concentrarsi sui temi a partire dalla povertà, dal lavoro, dalla povertà energetica. Insisteremo molto su questo, noi vogliamo davvero essere il partito del lavoro e dell'uguaglianza per questa regione. Presenteremo diverse iniziative, quindi un'analisi del voto che guarda molto al futuro. Anche in casa Italia Viva si è fatto il punto, dopo i ballottaggi microfono, al deputato e coordinatore regionale Camillo D'Alessandro, che annuncia anche l'arrivo del leader del partito Matteo Renzi. Se mettiamo dentro l'analisi anche quello che è accaduto all'Aquila, l'asse PD 5 Stelle non esiste più. Per vincere bisogna vincere al centro, accade ogni cinque volte a regione che la differenza la fa proprio quell'elettorato. Noi stiamo lavorando per aggregare, per mettere insieme i riformisti e i moderati che fanno la differenza nei comuni e faranno la differenza anche alle regionali. Renzi domani sarà in Abruzzo, due appuntamenti alle 17.30 a Sulmona, per presentare il suo ultimo libro, Il Mostro, incontrerà i cittadini, e poi ci sposteremo in Val di Sangro alle 8.30 al centro eventi Agorà perché vogliamo affrontare il tema dei temi che questa regione Abruzzo purtroppo non sta affrontando e rischia di esplodere che è l'automotive, le prospettive dell'economia, anche la luce della decisione dell'Europa di passare all'elettrico.